E' questa la porta del Signore. Apritemi le porte della giustizia. Le ante hanno posto una leggera resistenza, ma Papa Francesco ha aperto con fiducia la porta santa della Basilica Vaticana, inaugurando ufficialmente il Giubileo straordinario della Misericordia. Un gesto carico di significato, preceduto da quello compiuto a Bangui nella Repubblica Centrafricana, che schiude alla Chiesa e al mondo 12 mesi di grazia da trascorrere alla luce della parola di Dio. La solenne cerimonia, compiuta anche alla presenza del Papa Emerito Benedetto XVI, è stata preceduta dalla Santa Messa celebrata dal Pontefice in Piazza San Pietro, nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Una festa, ha chiarito Papa Bergoglio nel corso dell'Omelia, che esprime la grandezza dell'amore di Dio, che anche dinanzi alla persistente tentazione della disobbedienza, previene, anticipa e salva. L'anno giubilare dunque è dono di grazia per scoprire la profondità della misericordia del Padre, che accoglie tutti e ad ognuno va incontro personalmente. Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio, e in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre nella luce della sua misericordia. Attraversare la porta santa, dunque, ci faccia sentire partecipe di questo mistero d'amore, di tenerezza. Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato. Viviamo piuttosto la gioia dell'incontro con la grazia, che tutto trasforma. L'apertura della porta santa ha richiamato alla memoria un'altra soglia spalancata 50 anni fa dai padri del Concilio Vaticano II, una ricorrenza che non può essere ricordata solo per la ricchezza dei documenti prodotti, ma anche e soprattutto per l'incontro tra la Chiesa e gli uomini del nostro tempo. Un incontro segnato dalla forza dello Spirito, che spingeva la sua Chiesa ad uscire dalle secche per molti anni, che per molti anni l'avevano rinchiusa in sé stessa, per riprendere con entusiasmo il cammino missionario. Dalla finestra del Palazzo Apostolico, prima della recita dell'Angelus, Papa Francesco è tornato a parlare della solennità dell'Immacolata Concezione e della Beata Vergine Maria, indicando nella madre del Figlio di Dio e madre di un'umanità nuova l'esempio a cui rivolgere sempre lo sguardo. La festa dell'Immacolata diventa allora la festa di tutti noi se, con i nostri sì, questi sì quotidiani, riusciamo a vincere il nostro egoismo e a rendere più lieta la vita dei nostri fratelli, a donare loro speranza, asciugando qualche lacrima e donando un po' di gioia. La misericordia è il tratto fondamentale del volto di Cristo, la parola sintesi del Vangelo e dunque anche il distintivo del vero cristiano. Non abbiamo paura, lasciamoci abbracciarsi dalla misericordia di Dio che ci aspetta e perdona tutto. Nulla è più dolce della sua misericordia. Migliaia di pellegrini hanno già attraversato la Porta Santa di Roma e in tutto il mondo cresce l'attesa per l'apertura il 13 dicembre per volere di Papa Francesco di una Porta Santa della Misericordia in ogni chiesa particolare, nella cattedrale o in una chiesa di speciale significato, oppure in taluni santuari. Una scelta unica, come è stato spiegato il 4 dicembre in Sala Stampa Vaticana durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi dell'Anno Santo. Alla presenza di Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e di Monsignor José Octavio Ruiz Arenas, segretario del medesimo di Castero. La Porta Santa ha un significato molto importante, poiché essa rappresenta Cristo stesso. Egli ci ha detto, io sono la porta delle pecore. E il Santo Padre ha sottolineato in una delle sue prime catechesi che c'è solo una porta per entrare nel Regno di Dio e quella porta è Gesù. Infatti, egli è il cammino che dobbiamo percorrere per arrivare al Padre, meta definitiva alla quale siamo convocati.